Eccolo qua, ciao bellissimo, guardate quanto è ben carino, adesso lasciamo vedere, come si senta un pochino, sei pronto a un momento di benvenire, ho visitato, abbiamo visto, tutti i posti di barca, si presenta davanti, e io ho un grande applauso per carino, e sta fatto, piccolo, ma grande, ciao, ciao, bene, un piede, un bellissimo, è vero carino, ciao, ciao, ci vediamo dopo, bene adesso, dopo un pochino, mi vuole un papagano molto più veloce, lui deve strecciare attraverso gli ostacoli, ma proprio, velocissimo, allora chiamo la mia amica, Rosy, Eccola qua, ciao, Rosy, bellissima, Rosy, è un capivaro, mi sa, Rosy, vogliono, Rosy, allora, possiamo fare la parola, se è la stessa cosa, benissimo, vediamo, vediamo, cosa succede, ora, non si volete, poi vediamo, cosa succede, tu Guardi, questa cuc day si v EMF parte, benissimo, la stessa cosa, non mi lavoro, mentre sono riuscita, non mi lavoro, è un'ata Rover, non mi lavoro, non mi lavoro, mi�로o, per il tracheco,... Grazie. Grazie.